ciao allora io non riesco a capire se sono storta scusate ma sto cavalletto balla un po forse così meglio perché credo che eravate un po stortini comunque spero che sta lì e non cade perché ho un cavalletto un po del cavolo e non è che sia tanto comunque allora nuovi gratte vinci ho ripreso il nuovo sette e mezzo però questa volta quello più piccolo che costa un euro e l'altro turista per dieci anni questo invece due per cui questa volta ho speso tre euro non volevo spendere di più come gli altri video perché sinceramente ho speso un po troppo in questo mese di agosto solo per dei gratte vinci e allora ho detto vabbè proviamo a riprendere questo vedere se ci porta fortuna o come l'altro che ci ha fatto perdere e poi il turista per dieci perché giustamente non sapevo che gratte vinci prendere dato che c'era solo questo qua da due euro gli altri erano finiti praticamente ho preso questo ho ripreso praticamente lo stesso gratte vinci però le prossimi prossimi video da da ottobre saranno diversi e con gratte vinci diversi perché vorrei diciamo provarli praticamente tutti comunque detto questo prima di iniziare a vedere se abbiamo vinto incrociamo le dita spero che questa volta ci porta un po più fortuna perché negli altri video abbiamo perso vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video lasciarmi un like e seguirmi su instagram io vi aspetto anche lì detto questo io direi di iniziare e vediamo se ci porta fortuna iniziamo allora sinceramente non so da dove iniziare se dal più piccolo o dal più grande però vabbè dai iniziamo dal sette e mezzo così vediamo allora dai iniziamo da quello più piccolo vediamo un po allora vi zoom così vedete meglio ok iniziamo dal banco ecco se iniziamo già così come l'altro siamo a posto 4 e mezzo dobbiamo superare il 4 e mezzo sarà un po difficile comunque allora le mie carte vediamo allora qua abbiamo un mezzo poi qui abbiamo un altro mezzo bene e per finire due direi che non abbiamo superato il 4 e mezzo proviamo vedere la carta bonus che è due e il premio allora il premio qua è di 20 invece l'altro è di un euro bene direi che beh direi che non c'è andato male perché sì abbiamo recuperato un euro perché qua la carta bonus è due euro qua abbiamo due euro per cui abbiamo vinto un euro beh dai questa volta c'è andata abbastanza bene dico abbastanza perché vabbè un euro non è che sia così tanto ma ho recuperato un euro così posso ricomprare un altro gratte vinci a vedere se sarò più fortunata e vincere una cifra più alta però meglio di niente perché un euro dai questa volta c'è andata bene proviamo a vedere questo vediamo se ci va di culo allora qui c'è un 33 un 14 un 27 e il bonus lo lasciamo per ultimo allora con questa monetina che ovviamente è piccola fa faccio un po di fatica a grattare perché piccolina dovrei usare un euro però vabbè ormai ce l'avevo sul tavolo e non c'ho voglia comunque andiamo a vedere andiamo avanti qui qui abbiamo un 12 niente un 45 6.000 euro ma magari un 20 un 15 cavolo abbiamo il 14 11 neanche questo proviamo andare giù 33 abbiamo il 33 abbiamo vinto due euro vediamo se allora credo che abbiamo vinto solo due euro ma 44 infatti non c'è poi 43 non ce l'abbiamo 19 non ce l'abbiamo e per finire niente perché allora vediamo il bonus 41 niente non abbiamo il però beh dai niente male due euro cioè vuol dire che ho recuperato tre euro beh questa volta sono andato proprio di culo perché abbiamo recuperato tre euro in tutti e due i gratte vinci e per finire in bellezza la fine di agosto ok la cifra non è che sia diciamo chissà quanto ma tre euro non è male perché appunto io adesso con tre euro potrei ricomprare un altro gratte vinci cioè potrei comprare un altro gratte vinci da tre euro o altri due gratte vinci per farvi capire per cui meglio di niente così almeno non devo sprecare i soldi ma se vinci qualcosina poi riesci a prendere altri gratte vinci come vi dicevo nell'altro video beh tre euro spesi ma tre euro recuperati per cui direi che questi tre euro poi comprerò un altro gratte vinci che però dovrò scegliere se farvi i video a settembre o a ottobre fatemi sapere se volete lo stesso i video a settembre cioè ne metterò solo due al mese come ho fatto negli altri mesi questo mese era solo perché la gente va in vacanza va al mare estate qui allora ho deciso di mettere questi cinque gratte vinci in questi cinque video il mese di agosto solo per questo perché sennò non c'erano questi video per cui fatemi sapere sotto in questo video se volete vedere il continuo di questi tre euro ovviamente anche altri del mese di settembre o continuerò a fare da ottobre io avevo pensato di non metterlo a settembre i video e ricominciare a ottobre così meno farò una pausa solo sui video di gratte vinci recuperare ovviamente piano piano i soldi e poi giustamente inizierei da ottobre non lo so fatemi sapere sotto in questo video sto già andando in palla comunque ripeto a me piace fare questi video è divertente giocare è divertente farli poi ovviamente ci metto 10 minuti a farli perché non li faccio durare chissà quanto sti video e secondo me è bello per cui non lo so fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere ovviamente se li volete anche a settembre o a ottobre io direi che il video si conclude qua ovviamente da settembre inizieranno i video nuovi video diversi che portavo sempre sul canale e che porto ovviamente sul canale se non siete ancora iscritti al canale e volete anche vedere altri video di generi diversi iscrivetevi al canale che io vi aspetto detto questo io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video e vedremo se ci negli altri video che farò porteremo un po di fortuna però questa volta vorrei vedere se ci sono grattivinci nuovi così prenderò quelli nuovi e vediamo se portano fortuna oppure no detto questo io mi sono divertita a fare questi video con voi e ovviamente anche in questo mese di agosto perché non l'ho mai fatto questo questo genere di video è la prima volta da quando ho messo il primo video sul mio canale dei grattivinci ho visto che tantissima gente è piaciuto il video e ovviamente ho avuto tante visualizzazioni nel primo video dei grattivinci e alla fine ho detto vabbè vuol dire che piace questo genere di video e allora continuerò a farli per cui grazie per i nuovi iscritti grazie per guardare questi video e se guardate anche gli altri che pubblico grazie per tutto detto questo ci vediamo al prossimo video perché ho parlato anche fin troppo ciao e al prossimo video ciao 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 ciao